comunque non perdi niente ma stamattina gianmarco tocco mi ha attraversato la strada azionale a foro decine città con paro dei birilli ma che succede ma no rega ma c'è un sito di 4 del fazzone che bello porco dio my mother is put ma quanto è forte la legge no no non dire così babbano madonna ma dove bisogna quella di arco 2 ma chi è che ha preso il palo non lo so lo sai bella sta cosa inutile no ma c'è sta casper broschi francesco guarda i cadaveri fazzone ci rincontriamo ma non c'è la rotta a me sappia per culo no ma no ma così è veramente ma donna porco dio di una sua atta clamorosa c'è un tiro no dolore e sofferenza ma che cazzo si è diventato un onomatopea che parla c'è la faccio pure a te è nata all'indietro ma che cazzo ha fatto la mia ma sono dio dio cheri questa qui è un'altra buca e ce l'ho male che è finita va next va ragazzi vogliamo fare una cosa strana io posso mettere il ball size random posso mettere a caso quindi uno c'è il dischetto piccolino e uno grosso si è un uomo di mettere anche le quelle collisioni se no non ha senso così la rara rara la vostra vede primo che mi tocca amore un fuoco stadino noo worms ma siete dei matti che l'andestino per le zone quali sono i calamiti calamiti pensa al tiro mazzola insanato mi ho fatto sta cosa mazzia la rifaccio non mi penso uff noo dove sei andato sotto la palla insomma ob ma che ricazzo cacà ma il maestro come cazzo fa riccardo cacà che mappa di merda no ti cazzo ho preso figli di puttana dai no 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 ciro è parco dio ricazzo è invisibile ricazzo è invisibile ma c'è il muro invisibile basta mi prego posso passare sono le bombe ma che bombe il cervello tuo è una bomba guarda 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 mamma mia come ho fatto ma ti ho tirato è la punizione di roberta carlos roberta roberta carlos non ci sono le collisioni 025 ma che ci stanno le collisioni ci stanno dal 15-18 ci stanno ragazzi il tono è curioso no mai più ricordare mai più questa roba questa roba orrenda del che no non sono stato spinto sono stato bisogna andare no porco dio madonna troia zoccola se me la pare impazzesco fasone viva la fasa worst case scenario fan madonna ufficio sei orrendo ti sboccia ah qui si deve tirare la swatta del zoom è ben diversa da una tipica swatta ah la capra mi ha preso ma domani si ammazzeranno tutte le pecore è tanto nel C che game meraviglioso pieno di emozioni alla fine è il maestro a portarsela a casa incredibilmente ho superato il zoom il maestro in foresta classico non lo battono dal 90 allora considerate considerate che con con i salti su foresta in realtà c'è la possibilità di fare tutti in uno ma è stato capace ma lo puoi fare ma come fa? il maestro invincibile il maestro il boss finale signore pochi cazzi andiamo a comandare come fa biorovazzi e so che spacchi il marzon ha rifatto in uno ha rifatto in uno pure questo che giocatore magnifico ha tirato fuori dei pinzi porco dio frate è un pazzo curioso urlo del Bob è un matto vero il maestro fatti in uno pure questa questa è dritta dovevo fare un zoom vai giamato non facciamo no 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 capito che è l'unico avversario qui posso essere io del maestro dai ma sei ultimo gg 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 e questa come concetto è la rischio o non la rischio fa zoo è la rischiata l'uomo è vero è un uomo vero io ho rischiato guardate che trafaggio salto solo è mo che to venga a spoiler a me a me se è andato fuori sta a poche guarda dove sto fa zoo fa zoo fermo fermo no non ci sono le collisione la zona mi ha dato nel culo no ci sono i salti fatti quei salti pensate fuori dalle schemi dalle schemi anche qui vabbè ma tu però c'è sei troppo big brain ma ma sto tutto gianco una rock star sono un coglione ma dovevo provarlo una rock star ecco bravo svegliate freddo gianmo porco dio devi morire mi devo vedere veramente bruciato nelle fiamme dell'inferno la tiro così questa per te ragazzi hai visto cosa succede marzo la buca ho rimbarzato dentro la buca ho rimbarzato attento le gioie marzo dimmi cuore ecco è la mappa eh ho tirato mezzo al massimo quasi al massimo dimmi che me la conta ti prego dai ma è paccato ma dai ma se gioca più al golf ho ben paziente ah vai 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 sono proprio felice di non entrare nella bocca del tumore una sfinge no non sono entrato neanch'io mi non grazie il 200b ma è incredibile non avrei mai detto che non mi faceva entrare nella bocca del tumore la sfinge di merda no però tu hai qui ho trollato due volte ma sei serio siamo dentro la bocca della sfinge allora tocca far il tiro del sium per recuperare ma davvero davvero la legge la legge sono nella tua condizione aspetta marzo io mi invento una cosa io ti faccio vedere che cazzo mi voglio inventare sei andato fuori Gemma no ma porco ma che significa anzi la voglio provare no bugia n'apro what the fuck big test ci succedere dal vicino eeeh si oggi staffo muovesse andone quanto avete caricato per far sta cafonata brutti porci al massimo è il posto non è non è il ma tu ma non sa chi scarica sa chi scarica questi due vod no però mi meritavo di passare dio merda no si è bagato no no il bag alla fine no voglio morire è morto ehi bro ti piacerebbe un bel muro invisibile no il maestro il muro invisibile è passato ha superato le leggi della fisica e dello script come al solito fai la comparsa ma vuoi schillare fai schifoci no no sperimentale sperimentali c'è ormai sperimentale sta andando sta andando across the map oh ciro comunque veramente su sti giochi fai veramente cacare ma guarda 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 ci sono le bucche dove mi impegno ti sei valorante fortnite te levo da valorante fortnite stai al contrario stai guarda voglio fare no no da qua puoi tirare da qua puoi tirare coglionato che sta dicendo fai la follia la follia di multicolor la follia multicolor la follia multicolor ma che volevo fare una roba del genere zii ciao è scato del tempo oh le sei scompato subito Gianmarco Tocco io non so neanche che sta neanche provando non ci sta provando ha annientato questa sera ha annientato e l'altro dove trollo c'è gg gg boys fate per sub ciao